ciao ragazzi ciao bentornati siamo sempre con Paolini sempre con lui ma perché non si lavano i coglioni il signor ma ci spiega perché ogni giorno tiene sempre la solita maglietta la solita pelpa perché quando disneschiamo le bombe io mi sento molto a mio agio a tenere gli stessi vestiti per un mese intero infatti se vedete ogni mese io cambio maglia perché ogni mese cambio la mia tuta da disinnescatore funziona così ma non siamo qua per parlare della mia tuta bensì delle bombe per cui utilizzo la tuta e oggi ci abituiamo al ritmo 2 no non è vero gioco onesto 1 vabbè descrizione niente più tenersi per mano ora ricorda tutto ciò che hai imparato perché può accadere di tutto in questa bomba sono ben 5 minuti 5 moduli e 3 errori quindi dobbiamo fare un po' homosexual here esatto il record è di 22 secondi quindi ma mi sa che queste bombe della 3 non le abbiamo molto cacate perché anche quella di prima non era difficile cioè al primo try con calma l'abbiamo superato di un botto il record sì queste qua erano quelle vabbè sono medie sono troppo troppo di difficili magari alla prima tentativa ma troppo facili per per farle di nuovo esatto magari siccome qua ci può essere di tutto facciamo una cosa vi rifaccio vedere il manuale così vi faccio vedere un attimo cosa può capitare le cose nuove che non vi ho spiegato ancora bene anche perché non vi ho spiegato l'altra volta se non sbaglio alcune cose che abbiamo già visto tipo il l'alternanza di cavi no l'avevo detta un po' al volo vediamo un attimo allora andiamo giù faccio vedere aspetta ecco qua allora se noi andiamo giù queste ve le ho già fatte vedere l'arco dice morse questa pisellata vabbè sì questa è la sequenza di cavi niente cioè è abbastanza intuitivo primo cavo blu taglia se connesso a B secondo cavo blu taglia se connesso a o C quindi io gli dico il colore che mi trovo davanti e lui mi guarda mi va in ordine sostanzialmente non so come spiegarlo la perintos ha già visto password una minchiata allora ho già fatto vedere tutto vediamo quelle che rompono le palle questo è lo sfogo gas mi viene fatta una domanda devo rispondere sì o no sostanzialmente poi c'è il condensatore che è quello quello con la leva praticamente niente semplicemente più passa il tempo più questo no c'è il timer non mi ricordo come funziona sì mi sembra ci sia il timer se io tiro giù la leva il timer aumenta quando arriva a zero esplode sostanzialmente poi c'è le manopole questo è un incubo se non sbaglio che a me si accendono determinati cioè questi led qua alcuni si accendono devo dire quali mi si accendono e questa è la griglia che rappresenta lo schema dei led quindi madonna se io mi si illuminano in questo modo gli devo dire allora la manopola mi dice su qui c'è scritto su ah no e deve essere posizionata su forse non mi ricordo come funziona c'è la freccia i led se devi mi devi dire come sono i led quello si lo capisco devo dirti di mandarla su giù ok giusto si è vero io non posso sapere ok e niente quindi questo è tutto abbiamo visto tutte le cose quindi adesso dopo 5 minuti di introduzione andiamo a vedere la bomba di oggi siete pronti? bombastic si signor cazzo in culo oh 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 già devo fare la vecchia fattoria col tomasoni ogni volta che dovrei mettere nell'elenco allora ci siamo aspetta ora ci siamo i cazzi si è sentito che sviluppano cazzi qua morse morse mi sono perso la prima la seconda è una E la terza è una A no non è vero la terza è una R e R e R forse verso ma proprio deve essere anche R la prima è pu 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 linea punto punto linea punto 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 linea ok V verso 3.535 perfetto abbiamo i cavi complessi e i cavi normali ok allora blu a questo lo taglio blu led stella blu led stella B taglia il cavo se la bomba ha una porta parallel com'è la parallel andiamo avanti allora rosso e led ok rosso e led rosso e led rosso e led B taglia se ha più più se la bomba ha due più batterie ok solo stella sotto le taglia ok stella e led stella e led è B sempre ok perfetto anche prima l'ho da tagliare allora allora abbiamo incomprensioni sotto ok oh ti riconetti eh che cazzo in mezzo alla destra fermo eh no vuoto no ok nulla in mezzo a sinistra nulla di nuovo eh destra ok spingi spingi 3 ok c'è c'è più cavo blu taglia l'ultimo cavo perfetto poi memory 4 quarto pulsante ok memory 4 di nuovo premio pulsante premio pulsante con la stessa posizione dello stage 1 ok 4 di nuovo premio pulsante con scritto 4 ok 4 premio pulsante nella stessa posizione dello stage 2 ok 2 pulsante con la stessa scritta premuto la stessa posizione dello stage 2 ok fatto 1 minuto e 27 ok il record era 22 secondi quindi avevo già battuto ma annaggia all'audio di merda questi sono i fai quindi scusi mi staccarei il lag invece perché io l'ho detto quasi subito oh no quasi non lo so eh non lo so se ho detto ma che cos'era? era mi sa che te mi avevi detto spingi ed eri in mezzo a destra ah adesso ho sentito ridere cioè ti ho detto spingi e ho sentito eh e che ridevi però non l'ho sentito ho riso per lo spingi eh sì sì ti ho sentito ridere per lo spingi ma non ho sentito la parola eh ma io a un certo punto ti ho sentito anche mezzo laggare sono andato un po' intuito vabbè dai comunque abbiamo fatto record meglio di 22 secondi ci vuole ci vuole poco eh però vabbè dai riproviamo siamo a 9 minuti di registrazione quindi abbiamo ancora tempo che in realtà è una bomba lunga quindi massimo due volte mi sa che la rifacciamo eh gioco onesto riproviamo io metto quella password non so perché mi ispira vabbè c'è una password F F festa festa ah mi sa che culo e cavi normali 6 cavi 6 cavi cavicialli 1 più di un cavo bianco 2 taglia il quarto cavo cavi complessi vai rosso e stella taglia perfetto e se ne taglio già 2 aspetta che torna la luce vedo che c'è uno con led però non vedo una seca spengo la luce va ok blu e basta blu e basta s quindi taglia l'ultima cipersera le pari ok rosso e stella rosso e stella rosso e stella e t taglia ok rosso stella e led rosso stella e led è B quindi taglia se la bomba si perfetto finito allora memory 4 quarto ok poi 3 premi il primo pulsante ok 4 premi il pulsante con scritto 4 ok 2 premi il primo pulsante 1 premi il pulsante con la stessa scritta premuto la stagione perfetto simon dice ho la vocale giallo zero errori giallo verde rosso blu blu rosso 2 minuti e 42 boi distrutti da soli distrutto mentre stavolta il laggia non ha preso il controllo esatto stavolta siamo andati belli a cazzo duro avevamo pure 6 cavi tra l'altro quindi tanta roba ma poi ci abbiamo avuto pulissimo con il morte con la password si con la password stava proprio la prima cioè tipo un culo di così poi le altre era sì abbiamo avuto il memory che ha perso un po' di tempo ma leggermente quello si è costretto cioè non c'è scampo come il simon dice si si però appunto i cavi se i cavi in realtà non erano il drone cap abbiamo avuto culo c'era solo un cavo giallo significa vittoria 13 minuti dai riproviamo l'ultima volta facciamo l'ultimo try faccio sempre l'ultimo try è impossibile fare meglio di così stiamo nella top 1 per 100 sicuro 100 minuti si 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 cosa è meglio di così dobbiamo arrivare nella top 0 per 100 mi sono appena reso conto che posso giocare solo col mouse allora mouse e boia tanta roba morse la prima è una E la prima è una E la seconda mi sembra una R di nuovo R e R e R R forse la prima non è la E a provarsi penso sia TR si finisce con R sicuramente è 3.542 perfetto poi abbiamo cavi complessi vai solo stella taglia stella e led stella e led B taglia con le bombe cioè con le batterie ok rosso blu e led rosso blu e led e sempre B perfetto finito incomprensioni sopra si sopra si si no è in basso a destra come? fatto no la luce aspetta aspetta riparti da capo fatto aspetta 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 ok fatto poi no ok fatto scherzo ok in mezzo a finita aspetta ok vuoto no scusa nulla ok e H destra ok vuoto in mezzo a destra no due o cosa ok e H punto di domanda vai certo sei cavi vai sei cavi figmi cavi gialli no l'ultima cifra numero seriale dispari no ok cavi rossi due vai del quarto cavo non ci si fa simboli una r senza la stanga a sinistra stella vuota culo con la virgola sopra e y al contrario non ho capito un cazzo ok stella vuota culo con la virgola sopra y al contrario e un boh un tre senza un pezzo sotto ok dimmi qual era la prima stella vuota ok dovrebbe essere culo culo la stella è ultima dimmi qual è l'altra roba una y al contrario e tipo una r senza la stanga a sinistra ah e ok quindi dovrebbe essere il tre stanga stella stanga sarebbe la y si si è giusto però non ce l'abbiamo fatta su pro record 1 e 44 a me non sembra una r quindi mi ha dato il beneficio del dubbio speriamo sia questa eh non sapevo come la descrivi quella eh boh un y al contrario no quella è un y al contrario ma la r allora non hai mai capito quale è la y al contrario se ho detto y al contrario ah no no la y al contrario ho capito quale è quella lì basta dire un tre storico si si a quel punto ho capito ok si ho detto sia 3 che r all'inizio ho detto r poi ho detto 3 poi ho ridetto r eh quindi ho confuso la r con la y al contrario ah ok te l'ho andata di culo no ho andato per scontato fosse quella perché non mi tutto il resto non mi sembrava né una r né una y al contrario ho detto boh sarà quella è sicura perfetto vabbè 17 minuti quasi 18 stoppiamo da tanto abbiamo fatto un buon record abbiamo fatto 2.42 comunque un ottimo record adesso ho già le 11 passate visto però visto mondialmente quante è sempre 1% vediamo allora no ma ah si no niente scusa sto stupido però che pare fa schifo sta top ma non ha senso fa schifo la top cioè la top serve a farti vedere che delle persone sopra di te hanno fatto praticamente lo stesso tempo con un nanosecondo in più e quelli sotto con un nanosecondo in meno ma cosa micchia me ne frega è una volta abbastanza stupida cioè fammi vedere la top 5 mondiale che i punteggi migliori non quelli vicini a me ma boh poi c'è la top degli amici ma siamo gli unici stronzi che giocano a questo gioco di merda quindi non si può vedere non puoi vedere il cartello perché non ce l'hai nemmeno come amico su stream eh no infatti sarebbe interessante perché non so se l'ha rubato no non credo sembra una persona abbastanza corretta un uomo stagione allora quando finiremo keep talking oltre a fare il cercare di fare i record di tutto anzi sai vabbè si proveremo a fare cercare di fare un po' di record magari di quelle un po' più difficili ma esatto ma un'altra cosa carina potrebbe essere se non ci siamo ovviamente stracassati i coglioni comprare su steam te keep talking che siamo anche amici provare a farlo con io che tengo il manuale e te che fai la bomba e vedere niente cosa cosa succede io andrei bene io andrei malissimo al memory io al memory non come cazzo fai io fallirei subito allora la mia tecnica del memory lo dico anche ai telespettatori allora vi faccio vedere la mia tecnica del memory è facciamo conto che qui c'è il tasterino ok quindi c'è 1 2 3 4 messi così io quando pigio il pulsante inizio a passare col mouse sopra dove sta il pulsante e a ripetere a bassissima voce il numero quindi se io pigio il primo tasto l'ho scritto 3 io faccio 3 e ci passo sopra all'infinito poi mi dopo mi dici terzo pulsante con scritto 2 io faccio 3 2 3 2 e passo dal primo al terzo pulsante 3 2 così faccio in questo modo ecco come faccio io con la conseguenza dei cavi la conseguenza dei cavi è una cazzata perché appunto faccio anch'io così però di ripetere muovo il mouse nei punti in cui c'è quello lo puoi fare perché ti basta sapere la posizione io devo sapere anche il numero quindi devo ripetermi anche il numero è vero memory è l'unico allora no il memory e il morse secondo me sono gli unici che mettono in difficoltà chi usa la bomba perché il resto è soltanto dire cosa c'è alla fine esatto alla fine tipo poi ci sono alcuni dove magari deve essere bravo a dare le indicazioni quindi si può dare dire simboli o può essere magari il il labirinto magari da capire è facile cioè perché poi alla fine le altre sono proprio cose stupide da dire cioè ti devo di un colore o quanti cavi ci sono o dire sì o no cioè sono cose molto semplici hai l'incomprensione hai paura di sede incompresa del labirinto la cosa più difficile può essere che magari non capisci bene il punto in cui devi arrivare perché se non capisci tutto quanto la mappa si capisce subito quasi istantaneo spesso sì alla fine sì anche perché non so neanche se ci sono labirinti dove uno dei due pallini è messo nello stesso punto forse nello stesso la stessa colonna dici nello stesso punto cioè se non ci sono non si riflettono mai o sì mi sembra di no perché perché allora me ne basta che te ne dica uno non importa se te li dico entrambi se te li dico entrambi no ma è niente ci si mette solo di più se te li dico tutti e due diciamo vedete bomb manual hit no non si ripete vediamo ragazzi vediamo che inizia è meraviglia allora ctrl f labirinti eccolo qua allora questo non si ripete mai questo non si ripete mai ah sì mi sa che si sono tutti unici sì sì non no per confondere troppo però tipo uno per esempio puoi dire tipo in quello in alto a destra puoi dire tutte e due stessa stessa riga anche sì sì è vero stessa colonna prima riga cioè sì sì quelli più quelli così si conviene dirle entrambi è più sbrigativo è anche più facile da vedere gli altri conviene dire tipo tutto a sinistra seconda riga tipo può essere un po' stronzo il secondo quello in alto nel mezzo perché non è perché devo dirti per forza sia riga che colonna non ti posso dire tutto a destra o tutto su seconda e penultima però puoi puoi dire tipo in qualche modo si può dire tipo nell'angolo a destra però più di uno più avanti sì io ti direi tipo quasi in alto a destra magari capiresti però rischi di confonderti perché parte no perché non c'è nessuno che è quasi che potrebbe essere vicino solo forse il sesto perché è tutto in alto e quasi a destra però se lo diciamo prima se chiariamo prima è una cazzata cioè se appunto decidiamo queste regole fra virgolette sai che se ti dico quella cosa è quello lì beh keep talking eh vabbè cioè sì se si fa una partita ogni mese sì se si inizia a fare effettivamente tutte le settimane e prendiamo l'abitudine no diventa abbastanza intuitivo però vedi keep talking è un gioco che più ci giochi più ci giochi è uno di quei giochi esatto più ci giochi oggettivamente ma secondo me è troppo divertente fare keep talking tipo con dei vecchi io un giorno lo voglio provare con i miei genitori con la vizia minchia 25 minuti no siamo stati troppo tempo a vedere il manuale vabbè niente ragazzi è video lungo ma in realtà è durato cioè meno del solito a livello di bombe è stato proprio un cazzeggio finale quindi niente vi ringrazio per la visione di questo video e di tutti i discorsi video dei futuri video noi ci vediamo prossima settimana con un altro bombazzata con il grande polini e invece domani con un video a caso esatto probabilmente quante bombe sono in tutto vabbè niente ho già fatto durare troppo questo video le conteremo un'altra volta ciao ragazzi buona giornata so so grob grob limites ciao 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 ciao